Oggi qui li dobbiamo ricordare, li dobbiamo ricordare perché hanno dato la loro vita. Ci sono tanti di quei fatti che sono incredibilmente tragici, in alcuni casi anche molto brutti. Pensate, dopo che erano stati ammazzati con pietre, questo poverino delle piagge che ci aveva un vestito della testa perché il 3 ottobre del 1943 era una domenica. Pensate, è un giorno di festa e in quel giorno sono caduti in tanti. Questo poverino fu costretto a portare le munizioni a spalle fino alle tre caciale. Poi alle tre caciale fu ucciso insieme ad altri tre compagni. E lui si lamentava perché ci aveva il vestito della festa, le scarpe nuove, le scarche della festa. Dopo che l'avevano ucciso, una scarpa che gli aveva, se era ridotta a brandelli, la ficcarono in bocca. Questo è per cercare di farvi capire che qui non c'è stata una semplice battaglia, qui c'è stata una tragedia umana. Finisco qui perché altrimenti non dovrei continuare fino a, non lo so, qua. E vorrei passare subito direttamente la parola alle autorità che ci saluteranno e ci diranno senza altro delle cose molto importanti.